Anteprima di Chimera, oggi tratteremo un argomento che purtroppo ha lasciato attonite tantissime persone in Abruzzo ma anche su tutto il territorio nazionale, ovvero della scomparsa del giovane Giorgio Lanciotti di soli 35 anni sul Gran Sasso lo scorso 22 settembre 2024. Tantissime sono state le ricerche e purtroppo non si è trovato nulla. Visto che Chimera non è soltanto un programma di approfondimento ma anche di divulgazione scientifica, sarà l'occasione per parlare anche dei cani di soccorso. Restate lì qualche secondo, iniziamo. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro pc, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. www.mesmerism.info.it Eccoci, finalmente partiamo. Gli ospiti di questa puntata. Stefano De Felici, soccorritore Cinofilo dell'Associazione Pirec dell'Aquila e abbiamo qui ospite, ovviamente anche in presenza in questo caso, David Filieri, direttore del giornale online Il Capoluogo e la nostra immancabile Veronica Ruggero, autrice e riferimento giornalistico del nostro programma. Prima di iniziare a parlare della scomparsa del giovane Giorgio Lanciotti, avvenuta, ripetiamo, il 22 settembre del 2024 sul Gran Sasso, cerchiamo intanto di capire che cosa sono i cani da soccorso, cani da soccorso che ovviamente in questo caso sono stati massivamente utilizzati per ricercare il giovane scomparso. Lo facciamo con il servizio montato da Eric Montalbano. Innanzitutto è importante capire perché proprio i cani vengono utilizzati per questo tipo di attività di soccorso. La risposta è assolutamente scontata. Basti pensare che per esempio per quanto riguarda l'olfatto, i cani hanno un numero di recettori quasi 20 milioni in più rispetto a quelli umani addirittura. Oppure per quanto riguarda ad esempio l'udito, gli esseri umani riescono a percepire vibrazioni che vanno da 12.000 a 30.000 vibrazioni al secondo, mentre i cani addirittura riescono a percepirne da 40.000 a 80.000 vibrazioni al secondo. Quindi capite bene il perché sono proprio i cani, gli animali idonei per questo tipo di attività. Va inoltre detto che le attività di soccorso sono molteplici, infatti esistono diverse tipologie di modalità di soccorso che i cani possono svolgere. Per esempio abbiamo il soccorso speleologico, quindi in alta montagna, oppure il soccorso per macerie, ovvero dopo grandi catastrofi, ad esempio a seguito dei terremoti. Ci sono pure soccorsi di tipo acquatico, infatti i cani vengono utilizzati anche per attività che possono riguardare l'ambito marino, quindi sostituendosi ai bagnini che effettuano appunto il salvataggio e la ricerca di persone in mare. Quindi diciamo le tipologie di attività di soccorso sono molteplici, molto specialistiche e sicuramente sono davvero molto molto importanti per preservare la vita di noi umani. In base a che cosa vengono individuati i cani per poter essere poi formati a diventare dei cani di soccorso? Beh, diciamo che nei tempi passati generalmente si utilizzava il metodo della selezione per razza, invece negli ultimi decenni questa attitudine è cambiata. Infatti ormai la selezione non avviene più in base alla razza, bensì in base al carattere dell'animale, elemento assolutamente importante. Infatti vengono selezionati principalmente degli animali che hanno un carattere autoritario, un carattere diciamo socievole e soprattutto animali estremamente testati perché è fondamentale nei momenti di bisogno e di soccorso che questi animali si concentrino esclusivamente sul tipo di attività che svolgono. Questo è il motivo principale per il quale si sceglie soprattutto il carattere. Ovviamente poi naturalmente come seconda battuta c'è la scelta della razza, generalmente infatti vengono selezionati i pastori abruzzesi o i pastori belga o in alcuni casi per esempio vengono selezionate razze come ad esempio i border collie. La notizia importante, questo è rassicurante per noi abruzzesi, terra che purtroppo molto spesso è stata vittima di grandi tragedie, è che in Abruzzo noi abbiamo dei centri di assoluta eccellenza, un esempio è quello in cui siamo oggi dove vengono formati i cani in maniera assolutamente professionale, gli animali vengono seguiti per diversi anni nella fase di formazione e al momento in cui sono pronti sappiamo che questi cani sono assolutamente infallibili, difficilmente infatti può accadere che un cane possa avere una defiance nel momento della ricerca. Questo lo dobbiamo alla grandissima professionalità e preparazione da parte degli istruttori che svolgono quotidianamente, quasi giorno e notte, un'attività di continua formazione nei confronti di questi animali. E adesso avremo la possibilità di vedere un recupero in tempo reale. Prego Stefano! Poco più di 14 secondi per trovare un disperso Stefano De Felice Soccorritore Cinofilo, veramente incredibile. Oggi lei è venuto qui con il suo cane Arec, insomma ci ha deliziato della sua presenza. Ha già detto molto nel corso del servizio, ci può spiegare però nel dettaglio come un normalissimo cane, sicuramente intelligente ma un normale cane diventa un cane da soccorso e recupero. Il cane viene comunque preso da cucciolo, fare un percorso di un paio d'anni perché insomma è abbastanza lungo e ovviamente portarlo alla socializzazione, mettergli una bella motivazione sul lavoro che deve fare. Perciò viene comunque basato tutto sul carattere del cane. E poi bisogna fare comunque un brevetto ENCI dove ci sono tre selezioni, c'è l'obbedienza base, poi c'è la palestra in termini tecnici che è il salto, la palizzata, quello che abbiamo visto e poi c'è la ricerca. La ricerca possono essere due o tre figuranti, il figurante sarebbe ipotetico disperso. Perciò ci vuole del tempo per portare il cane. Sì, è meglio un cane preso da cucciolo e portato comunque. Quanta è la durata in termini di ore di lavoro che un cane deve poi percorrere per diventare effettivamente un cane da soccorso? Quante ore deve stare sotto lavoro? Beh, guardi, le ore non è quantificato con le ore. Ovviamente in base al carattere del cane, se il cane ti permette di lavorare e magari di fare più esercizi o più allenamenti durante la settimana, è comunque meglio. Perciò c'è comunque più ha qualità caratteriale il cane per lavorare e meglio è. Insomma, noi parliamo del border collie che fondamentalmente è un cane comunque abituato sul lavoro, sul lavoro proprio sul gregge. Perciò possiamo pensare quante ore può lavorare un border collie. tutto qua. Certo. Senta Stefano, le faccio questa domanda che va un pochettino al di là diciamo dell'argomento nello specifico per cui l'abbiamo chiamata oggi. Lei sicuramente avrà sentito del soccorritore scomparso sul Gran Sasso a settembre di quest'anno. Lei così a caldo, che idea si è fatta? Cioè dove è finito questa persona? Anche perché lei è un esperto soccorritore, ha fatto tantissime ricerche, anzi prego la regia se può mandare anche qualche eh fotogramma eh di eh di Stefano che sui recuperi che ha compiuto scorsi anni. Prego. Sì. Intanto guardiamo comunque anche l'ambiente che l'ambiente eh parliamo del Gran Sasso è comunque un ambiente molto difficile, è una montagna difficilissima cioè infatti il soccorso alpino eh prega sempre le persone comunque di andare in montagna in un certo modo e mai da soli. Questo è il primo problema che ha avuto questo ragazzo qua. Certo. Ovviamente pensare dove si trova è un po' eh sennò sarebbe stato ritrovato. Quindi è un bel rebus. È un bel rebus. Ovviamente poi è quello il problema di andare in alta quota è proprio questo che eh si va a soccorrere e non si può rischiare di essere soccorsi. Certo. Certo. Perciò ci sta tutto un un team dietro, ci stanno comunque tutte. Un ragionamento, un ragionamento per comunque per arrivare a fare comunque un soccorso o fermarsi praticamente con le ricerche perché poi comincia a essere magari difficoltoso anche per i soccorritori stessi. Non si può andare oltre ovviamente il margine di sicurezza. Ecco, l'immagine di sicurezza ecco. Comunque c'è sempre un range di sicurezza perché se no non si rischia. Poi la si rischia anche per il tempo. Assolutamente. Davide Filieri, lei è il direttore del capoluogo e il suo giornale è stato eh diciamo si è ampiamente prodigato per questa notizia e ci mancherebbe altro anche perché eh diciamo il Gran Sasso è a metà via tra la provincia di Teramo e la provincia dell'Aquila. Il capoluogo si occupa in modo particolare dell'Aquila e provincia e non solo. Tra l'altro dico assolutamente aggiungo anzi eh assolutamente molto seguito come giornale. Quindi complimenti per il lavoro che fate. Eh Davide Filieri così eh a freddo direttore. Secondo lei qual è stata eh diciamo la fine di questo ragazzo? Lei che idea si è fatta? Ma eh cosa dirle Bisegna? Eh non è cioè un'ipotesi azzardata come anticipava poc'anzi eh il soccorritore cioè può essere successo tutto e il contrario di tutto perché eh un disperso in alta montagna eh significa essersi disperso in zone assolutamente eh poco agevoli da 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 frequentare insomma se uno cade in un in un crepaccio di ottanta centimetri o di settanta centimetri è di tutta evidenza di tutta evidenza che eh identificarlo con strumenti elettronici o similari comunque tecnologicamente avanzati o raggiungere proprio quel luogo risulta 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 difficile eh sicuramente un incidente. Certo. Non credo che la tipologia la tipologia francamente credo non lo scoprirà mai nessuno perché quando anche verrà venisse e quando verrà ritrovato purtroppo o insomma eh ritrovata questa persona eh non credo che dalle dalle risultanze si possa arrivare poi a determinare effettivamente le cause visto anche il tempo che che sta passando l'inverno che arriva insomma certo. Credo che lei abbia sollevato poi una questione interessante cioè eh a proposito di questo eh un noto eh speleologo che è Pasquale Iannetti anzi guida arpina storica che tra l'altro questo Iannetti è colui apro una parentesi è colui che nel 1999 dichiarò che per quanto riguarda Ricopiano c'era il rischio valanga cioè fu praticamente un mago insomma eh purtroppo poi ebbe ragione. Ecco dicevo questo Iannetti ha dichiarato eh in più parti anche sulla diciamo sulla stampa nazionale che le ricerche eh aeree lasciano il tempo che trovano. Perché dice questo? Dice sostanzialmente quando uno fa delle ricerche aeree giustamente ci sono delle intercapedini all'interno della montagna e chi è stato in montagna come lei direttore ma insomma eh anche anche a me è capitato di andare sul Gran Sasso capisce bene che dal diciamo mh dall'aereo no comunque dall'elicottero quindi dalle riprese aeree anche col drone si fa fatica poi a vedere determinati intercapedini e questo giustamente Iannetti dice eh se vogliamo avere uno spiraglio insomma di possibilità dobbiamo andare con i piedi su e guardare. Il problema è che questo dobbiamo dirlo i soccorritori hanno fatto un lavoro straordinario cioè qui parliamo di eh gente che ha fatto 1200 chilometri a piedi e altri 1200 chilometri diciamo di eh valutazione aerea quindi hanno fatto un lavoro straordinario si parlava addirittura Veronica Ruggero di 600 persone che sono state coinvolte in questa ricerca quindi un grazie enorme ai soccorritori hanno fatto veramente l'impossibile però purtroppo non si trova. Eh c'è poi un dato aggiuntivo che la stampa nazionale anzi in particolare il quotidiano nazionale si è occupato di questa cosa ovvero c'è questo mistero eh di Giorgio Lanciotti che ha riguardato l'ultima telefonata cioè Giorgio Lanciotti avrebbe fatto un'ultima telefonata prima poi di scomparire. Veronica Ruggero. Sì la stampa parla di una telefonata di lavoro che sicuramente non è stata registrata e quindi non abbiamo informazioni aggiuntive su questa telefonata. Non lo trovo assolutamente strano nel senso e neanche misterioso perché comunque chi è un libro professionista insomma sa bene che il telefono è H24 e lui poi insomma aveva anche clientela di un certo tipo perché ehm era il titolare di una concessionaria Porsche quindi eh ovviamente rispondere o comunque fare una chiamata di lavoro insomma in questi casi è normale. Quello che ehm è interessante ehm sicuramente è infatto le modalità intanto cioè le conoscenze che lui aveva della montagna sarebbe importante sapere e ehm ricollegandomi a quello che diceva prima il direttore ehm sul discorso che difficilmente si possono trovare solitamente questi ritrovamenti avvengono in via fortuita cioè qualcuno che magari frequenta la montagna e magari per cause va in qualche in qualcuno di questi posti e eh trova purtroppo magari anche dopo l'inverno dopo le nevicate e quant'altro trova il cadavere. Eh questo non per sminuire il lavoro dei soccorrettori che eh come hai detto tu Raffaele fanno un lavoro incredibile. Io ho spesso assistito anche a agli addestramenti e eh i cani sono veramente ehm incredibili nel loro lavoro. Il binomio col conduttore mh è vincente e arriva lì dove non arriva la tecnologia perché solitamente con elicotteri e con i droni diciamo eh non si arriva in alcuni posti soprattutto in montagna dove c'è il bosco che non sono visibili alla tecnologia. Però purtroppo sì capita che quando una persona dispersa poi il ritrovamento arrivi in maniera fortuita e certo. Eh a proposito di questo ripasso un attimino da lei Stefano De Felici soccorritore cinofilo. Eh nella chiacchierata che ci siamo fatti insomma l'altro giorno quando abbiamo fatto le riprese del servizio eh divulgativo che insomma è andato in onda poco fa eh lei mi diceva sostanzialmente che per protocollo per standard accade che voi venite chiamate chiamati soltanto tre o quattro giorni dopo l'evento e questo naturalmente genera dei problemi perché il cane eh sostanzialmente deve fare poi una ricerca su un ambito sporco tra virgolette no? Non è più pulito anche perché poi sono cani addestrati per fare come mi diceva la ricerca su eh persone vive non persone morte. Perché secondo lei c'è questa c'è questo protocollo? Cioè perché non vi fanno intervenire subito che sarebbe la cosa più logica del mondo? Eh sì quello sì il discorso è che tante volte dipende dalla prefettura ci sono delle prefetture che magari hanno un loro una loro linea guida e praticamente chiamano partendo da comunque ovviamente dalle prime istituzioni che sono i vigili del fuoco che poi coordinano comunque le ricerche e sta a loro poi comunque vedere poi chi chiamare al soccorso alpino e varie 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 chiamate e di solito ecco entro 48 ore uno poi dipende poi chi è che si va a cercare se è un bambino se è una persona anziana perciò diciamo dipende dalla prefettura cioè come gestire le ricerche tutto qua ovviamente poi eh sul luogo ci sono i vigili del fuoco certo cioè non so cioè non c'è un perché allora le pongo la domanda in maniera diversa lei è un tecnico e che tecnico aggiungo secondo lei da un punto di vista di diciamo di qualitativo sarebbe meglio chiamarvi subito o no? Beh certo anche perché quando tu vai sul luogo di ricerca meno è sporca sporca in termini tecnici cinofili se ci spiega un attimino passate su quel luogo è più facile comunque il ritrovamento della persona infatti maggiormente quando poi si prolunga arriva a 3-4 giorni è sempre stato che praticamente o non è più stato trovato perché magari è andato via o magari purtroppo noi dobbiamo pensare anche alla fauna in un posto in un posto di montagna purtroppo dobbiamo pensare alla fauna che è una persona che sta comunque in mezzo che comunque non si è sentita male o comunque è deceduta in mezzo alla montagna pensiamo insomma la notte che ci può stare beh sì purtroppo purtroppo dobbiamo pensare anche a te un'ipotesi che va messa un'ipotesi che va messa che tante volte comunque purtroppo non è stato poi mai più ritrovato ci abbiamo altri casi insomma anche ultimamente in un altro caso di un altro signore che comunque continuano le ricerche però non si è più trovato e là si è speso un mese di lavoro un mese di lavoro direttore david filieri del capoluogo a proposito dell'altra questione no che di cui parlava esatto esatto ma insomma diciamo ci si capisce anche perché anche lei fa televisione quindi ci si capisce al volo e quest'altra scomparsa sembrerebbe più enigmatica giusto direttore a parte l'enigma io credo che siano due cose completamente diverse cioè in questo caso credo che il tecnico centri poco la difficoltà di carattere tecnico centri molto meno diciamo rispetto ad alcune vette rocciose di una montagna come come il Gran Sasso senza dubbio lì il il problema è il capire dove questa persona sia andata perché a me risulta a me sembra veramente strano che non che non venga che non venga più ritrovi più ritrovato parliamo del fungaiolo scomparsa ormai dal 29 di luglio sono due due problematiche completamente diverse ora in alta montagna come abbiamo detto il problema è dovuto anche così alla difficoltà del territorio delle caratteristiche del territorio il luogo della scomparsa del del fungaiolo lascia pensare probabilmente anche a un allontanamento a un in momento di confusione prendersi allontana per cui diventa tu concentri le ricerche laddove immagini che possa essere essere la persona la persona in questione quando magari questa si è allontanata non si sa dove non viene non viene cercata insomma quindi e prima o poi capiterà come è stato detto poco fa dalla collega capiterà per caso che perché immaginare che possa essere ancora vivo io francamente mi dispiace per la famiglia ma immagino che sia difficilissimo perché i tempi sono da qualcuno dovrebbe stare per poter sopravvivere mangiare bere tornando al soccorritore che sì esatto il pasquale ianetti la guida storica esatto che oltre ad essere stato un così un precursore ad aver anticipato quello che è inoltre purtroppo aveva ragione purtroppo è accaduto in quell'intervista cita quando parla dei sistemi tecnologici in aiuto alle ricerche e lui li esclude come mezzo risolutivo secondo me ha ragione a metà in questo senso perché lui porta a testimonianza un episodio suo del 1976 nel quale si è andato a nascondere non l'hanno tanato cioè questo è lui esatto la tecnologia chiaramente ha fatto dei passi dei passi da gigante per cui io credo che la tecnologia sia assolutamente utile debba entrare in gioco subito anche per aiutare per aiutare loro perché circoscrivere anche determinate zone le parole del prefetto di teramo sono state eloquenti cioè il prefetto di teramo ha sostanzialmente fatto un comunicato dove ha scritto noi ci fermiamo qui e termina dicendo il mancato ritrovamento di lanciotti trova spiegazione nella combinazione di condizioni meteo sfavorevoli e scenari particolarmente avversi Veronica Ruggero è bagniera bianca cioè hanno detto io non noi non lo troviamo e non sappiamo neanche non abbiamo neanche la più palida idea di dove sia allora beh le ricerche innanzitutto sono anche un costo no purtroppo è brutto dirlo però la praticità è questa quindi è bene protrarre le ricerche fino a quando c'è ancora speranza magari trovare la persona anche se magari in brutte condizioni però viva e poi a un certo punto si dichiara dispersa perché come succede in molti casi non è il primo e purtroppo non sarà nemmeno l'ultimo e poi a un certo punto quando non le ricerche non danno un esito bisogna bisogna dare bandiera bianca bisogna chiudere e io credo che al di là del costo ci sia anche un discorso psicologico la famiglia che comunque rimane attaccata a quella speranza rimane continuamente attaccata perché io immagino insomma lo stato d'animo dei familiari durante le ricerche nella speranza di avere un esito positivo di avere una buona notizia quindi ci sono tutta una serie di sfaccettature che poi entrano in gioco in queste situazioni non so se il direttore è d'accordo con me ci sono tutta una serie di sfaccettature meno nobili che riguardano i costi e più nobili invece che riguardano lo stato d'animo e psicologico dei familiari che entrano in gioco in queste situazioni quindi io volevo solo prima si parlava della filiera di comando quindi c'è la prefettura che poi trasmette ai primi che sono i vigi del fuoco anche se poi in questo io ho un po' indagato non è proprio sempre così nel senso che ci sono rapporti più o meno stretti tra il corpo nazionale con altri enti per esempio con la finanza vanno d'accordissimo con i vigi del fuoco c'è sempre qualche però voglio dire c'è poco da fare sia le attività come le idee camminano sulle gambe degli uomini e ogni uomo è vittima anche delle debolezze che l'umanità stessa ci riporta quindi esistono anche diciamolo bisogna avere il coraggio di dirlo piccole gelosie rispetto alla rincorsa al voler essere protagonisti quindi diciamo che a volte i mancati interventi anche se poi dobbiamo dire che i corpi similari a loro della finanza e anche dei vigi del fuoco e dell'esercito cioè nulla hanno da invidiare probabilmente è il numero di tecnici che loro possano possano fare e poi un'ultissima cosa perché mi scusi ma noi cerchiamo sempre quando capiamo queste cose la prima attività che parte è la caccia alla responsabilità ora io credo che questa società stia commettendo un grande errore quella di voler cancellare dal vocabolario la parola fatalità dove per fatalità si intende una concomitanza di eventi che non possono essere né prevedibili né risolvibili. Assolutamente d'accordo tra l'altro purtroppo la natura è diciamo piena di fatalità ci può stare può succedere sicuramente torneremo a parlare di questa vicenda speriamo con buone notizie ce lo auguriamo tutti grazie a Stefano De Felice soccorritore cinofilo grazie direttore david filieri del giornale capoluogo grazie ovviamente alla nostra veronica ruggiero noi ci vediamo alla prossima puntata mai contro mai senza chimera a lei il barber shop mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio quali air tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia il barber shop mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli barba e del proprio tempo ci troviamo in via mazzarini numero 47 ad Avezzano barbershop mancini io mi chavo roberta ho 36 anni e sono mamma di gabriele di leonardo di 72 anni lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopre il ruolo di manager oltre il 75 per cento delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni la ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante soprattutto nel campo della medicina chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello selezionati da noi con estremo rigore i nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti dal loro smartphone dal loro pc senza perdite di tempo in modo veloce ed intuitivo ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore con passione ma soprattutto con tanta comprensione parlando dei nostri risultati solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36 mila persone anzi 36 mila più uno cioè io perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici